Note così deliziose e inconfondibili l'aria del Natale che ci pervade, che ci riscalda il cuore, che ci fa sorridere malgrado questo tempo così sfortunato. Però il Natale è anche un momento in cui dobbiamo riflettere su quale può essere il nostro posto nel mondo, come essere utili per gli altri. E questo è quello che hanno fatto un gruppo di ragazzi di noto, che non si sono costituiti in un'associazione ma in un pensiero, il pensiero di poter aiutare gli altri. E ce ne parlano in rappresentanza Carlotta ed Elisa. Ciao a tutti, io sono Carlotta, lei è Elisa e siamo qua in rappresentanza. Siamo infatti un gruppo di circa 30 ragazzi che vuole condividere con voi la nostra iniziativa, Natale per tutti. Il nostro obiettivo è quello di comprare quanti più regali possibili a circa 100 bambini. In circa 30 esercizi commerciali potrete trovare questo salvadenaio e quindi contribuite anche a donare un sorriso a questi bambini. Buon Natale e grazie per l'attenzione.